Di Rossini e Roma voglio raccontare un aneddoto. Quando stava per debuttare come barbiere di Siviglia andò dal barbiere per l'appunto e scoprì che era un musicista dell'orchestra il quale lasciandolo gli disse allora maestro ci vediamo nel pomeriggio. Lì Rossini si accorse che Roma, il teatro in quel momento Argentina, non era dotato di un'orchestra di professionisti e disse che questo rispetto alle grandi capitali o addirittura a Napoli che in quel momento era la città più importante era davvero un problema.